Verticalizza De Guzman verso Meggiorini che entra in area di rigore, Meggiorini controlla e arriva il gol del Chievo, 3-1, bisogna andare a recuperare la palla, manca poco meno di 20 minuti, ma Ernesto un tentativo nel calcio va fatto, mai dire mai. Ma guarda, a parte che è stata un'azione anche in questo caso molto bella, mi ha ricordato il lancio per Meggiorini, qui lanci un po' alla ceca che fa Totti nei confronti dei propri compagni, sapendo che ci sarà lì qualcuno a mettere il pallone in rete, in questo caso c'era appunto Riccardo Meggiorini che come dicevamo è entrato comunque in maniera positiva nel secondo tempo. Applausi comunque da parte del pubblico del Bentegodi che apprezza l'intensità con cui il Chievo ha comunque onorato questa partita e lo vediamo in questo momento al fisco finale, tanti applausi convinti da parte del pubblico Bentegodi perché il Chievo nonostante sotto i tre gol ha cercato di giocare la partita fino alla fine.